Se chiudono i benzinai, come è stato detto e scritto, anche l'Anza lo dice da mercoledì, allora non potrà più essere garantita la distribuzione della merce. E questo è grave, molto, ma molto grave, perché se i camion non hanno la possibilità di fare benzina, o nafta o gasolio, come fanno a percorrere chilometri e chilometri e consegnare le merci nei punti di vendita, come soprattutto gli alimentari? E questo è molto grave. Io penso che il governo italiano debba provvedere a che si risolva questo, che sembra uno sciopero, ma forse hanno le loro ragioni, perché d'altronde devono essere sul posto di lavoro i lavoratori delle pompe di benzina, ma anche chi le rifornisce di benzina, che in pratica tutti gli altri sono protetti, dice noi dobbiamo essere sul posto di lavoro. E quindi avranno le loro ragioni. Quindi si trovasse una soluzione, perché senza benzina le merci non possono viaggiare. E se non viaggiano le merci, viene a meno la distribuzione. E senza distribuzione si crea il caos totale, anche e soprattutto per i generi alimentari, che finora sono stati distribuiti eccellemente grazie ai camion, anche ai treni, grazie a tutto, alle navi. Ma se si toglie la benzina dalle pompe di benzina, perché i benzinai hanno deciso di chiudere, o l'associazione del benzinale ha deciso di chiudere, non può essere garantita la distribuzione delle merci, che in questo periodo sono al 95% solo alimentari. E come farebbero? Faranno i supermercati, i piccoli negozi alimentari ancora aperti a essere riforniti di merci? Quindi è una situazione grave che va risolta al più presto. Scusate se metto queste immagini mentre parlo, ma almeno le mie parole risulteranno meno tristi o gravi, perché queste sono riprese che ho fatto in periodi in cui il mondo era più bello, più tranquillo, con meno problemi, ok? Grazie se mi avete ascoltato fin qui. Grazie a tutti.